Va bene, allora iniziamo la prima delle ultime due settimane che sono come anticipato dedicate interamente all'esame, sotto due forme diverse, le lezioni che facciamo in aula saranno praticamente solo risoluzioni dei temi di esame vecchi, l'obiettivo sarebbe almeno quello di coprire quelli dello scorso anno, quindi gli ultimi 4 appelli, quindi cominceremo oggi a iniziare due appelli, uno adesso e uno alle 10 quando arriverà Marcelli e poi ovviamente non ce la faremo in un'ora e mezza a risolvere completamente un esercizio, quindi probabilmente ci vorranno due lezioni per ogni tema di esame, però tra questa settimana e la prossima cerchiamo di coprire il maggior numero possibile di temi di esame. E poi in laboratorio invece faremo le simulazioni di esame in cui vi daremo un testo e cercheremo anche di impostare le modalità di svolgimento dell'esercizio in modo il più simile possibile all'esame reale. Quindi quello che stiamo cercando di fare in questi giorni è tra l'altro uno dei motivi per cui il testo delle esercizioni di mercoledì non l'abbiamo pubblicato e non lo pubblicheremo fino a mercoledì, in modo che lo vediate sul momento così come all'esame e lo vedete sul momento. Quello che stiamo facendo in questi giorni sarà quello di pensare praticamente a 4 esercizi, come se fossero 4 esercizi di esame e poi di questi 4 noi scegliamo 2 e li proponiamo come simulazione e gli altri 2 come esame, nel senso che l'esercizio che stiamo cercando di fare anche noi è di cercare di ottenere lo stesso livello di difficoltà o di tipologie di esercizi per la simulazione e per l'esame, in modo da rendere la prova più realistica possibile. Allora per quanto riguarda, spendo solo 10 minuti, tanto abbiamo tutti bisogno di svegliarci, per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'esame, c'è il regolamento scritto, però direi che il tutto è riassunto da questo flowchart, che vi avevo flashato una delle prime lezioni, ma adesso è ora di andarselo a studiare, un pochino più nel dettaglio. Quindi come si svolge l'esame e anche come si svolgono queste due simulazioni? Allora, ovviamente sia per l'esame che per le simulazioni il vincolo è quello di lavorare sui PC del laboratorio, quindi questo mercoledì prossimo, se lo portate tenetelo in borsa, perché cercate di lavorare sul PC del laboratorio, questo serve a voi perché prendete maggiore dimestichezza in vista dell'esame, serve anche a noi per verificare che su cui il PC si è tutto installato nel modo corretto, nel senso che è meglio scoprire se l'Eclipse non funziona adesso più storto che il giorno dell'esame. Ok, allora cosa succede? Succede che io al giorno dell'esame fisserò degli orari dell'inizio dell'esame, come vi dicevo il primo appello molto probabilmente dovremmo fare a tre turni e per ciascun turno facciamo un appello che è 20 minuti prima, quindi diciamo il primo turno inizia alle 9, quindi appello è alle 8.40, alle 8.40 quindi ci troviamo fuori dall'app, faccio l'appello, verifico i documenti e entrate, cominciate a sedervi, dove vi, diciamo davanti al computer a cui vi destiniamo e cominciate a controllare che sia tutto a posto e caricare sui computer del laboratorio il materiale di cui avete bisogno, quindi poi potete entrare con il vostro login, con la vostra password nel PC del laboratorio, quindi in queste due settimane se per caso non avete o non vi ricordate la password oppure non siete mai entrati su quelle macchine in questo semestre, fatelo così avete già login e password, evitiamo di fare casino il giorno dell'esame e in questi 20 minuti potete copiarvi sulla vostra area di lavoro, sulle vostre cartelle, riservate il vostro utente sul PC ciò che volete, ciò che pensate che vi serva e vi consiglio di provare a vedere se tutto funziona, quindi preparatevi un progetto semplice che però abbia JavaFX, Java abbia un piccolo database eccetera in modo da caricarlo vedere che tutto funzioni, fate un run, vedete che il database funziona, si collega, la password la conoscete eccetera eccetera, ai termini di questi 20 minuti si dà per scontato che tutto funzioni o meglio se qualcosa non funziona abbiamo tempo per intervenire, spostare di macchina, ristemare la configurazione, quello che sia, in modo da essere tranquilli che quando parte il tempo dell'esame almeno il problema, diciamo così hardware, software di base l'abbiamo risolto. Quando parte l'inizio dell'esame vi chiederò di togliere di mezzo tutto, nel senso che telefoni, chiavette USB e cose varie li mettete in borsa per la durata dell'esame, quindi prima potete portarvi ciò che volete, poi nel momento in cui distribuiamo i testi ovviamente mettete fuori tutto ciò che può essere usato per scambiare dati e scambiare informazioni, per questo vi dico copiatevi prima ciò che pensate che vi possa servire. Tenete presente che durante la durata dell'esame ovviamente potete continuare a usare internet, quindi se c'è qualcosa che vi serve che è online non avete bisogno di copiarlo prima. Ok, a questo punto l'inizio dell'esame in che cosa consiste? Consiste essenzialmente nella distribuzione e qui torniamo un pochino indietro come tecnologia rispetto a quanto siamo abituati, la distribuzione del testo dell'esame che sarà un foglio di carta come faremo un mercoledì in laboratorio su cui c'è scritto il testo sopra e poi proietto un indirizzo, una URL da cui scaricare il progetto. Purtroppo non riusciamo a usare come facciamo normalmente GitHub per scaricare queste cose, soprattutto perché il testo durante lo svolgimento dell'esame deve essere riservato, se lo pubblico su GitHub poi c'è qualcuno da fuori che lo vede all'esercizio e in qualche modo cerca di farvelo arrivare, allora vi dovete preoccupare troppo di queste cose e non di fare l'esercizio bene. E quindi dobbiamo andare con metodi un pochino più conservativi, del tipo il testo su carta e il progetto da un sito che è accessibile solamente dalle macchine del laboratorio, quindi anche dall'esterno, inoltre che condividiate con l'indirizzo, non si riesce a vedere. E quindi vi daremo il foglio su carta che tra l'altro è anche più comodo per pasticciarci sopra e l'indirizzo da cui vi scaricate il progetto in formato zip e ve lo dovete importare in Eclipse. A questo punto parte l'esame, nel senso che voi leggete il testo, scaricate il progetto e all'interno del progetto tendenzialmente c'è il database che dovete importare, abbiamo già la sequela del database che dovete importare sull'istanza di MariaDB che c'è su quella macchina. Allora a questo punto, questo è l'inizio dell'esame, durante lo svolgimento non fate altro che lavorare, realizzare il vostro programma, qui c'è scritto controllo feroce, nel senso che il controllo che facciamo essenzialmente è che non cerchiate di comunicare, né tra di voi né online, quindi se avete bisogno di cercare qualcosa usando Google, usando Stack Overflow, usando il Java Doc, benissimo, se però aprite un programma di mail, un programma di messaggistica o altro si vede e vi verrà chiesto di allontanarvi. Per questo avete due ore di tempo, quindi dall'inizio alla consegna sono due ore di tempo per svolgere al meglio l'esercizio. Al termine del tempo che cosa succede? Al termine del tempo fissato vi chiediamo di uscire dall'aula, lasciando il progetto aperto e clips così come è, diciamo, fin dove siete arrivati e poi vi chiamiamo uno alla volta. Sapete che la votazione di questo esame è su due soglie, una soglia minima e non diciamo una soglia massima oppure l'esame completo. La soglia minima corrisponde al aver eseguito correttamente il primo punto, il primo esercizio dei due che sono proposti sui testi. Allora la verifica del primo esercizio che corrisponde alla sufficienza o poco più della sufficienza avviene seduta stante, cioè quel giorno lì in quel momento. Allora quindi vi chiamiamo comunque individualmente, venite davanti al PC, insieme facciamo partire il progetto e facciamo qualche prova di funzionamento sul progetto, esclusivamente su quanto riguarda il punto 1. Allora a quel punto sono due casi, o funziona o no. Se funziona vi diamo già subito un punteggio minimo che può essere da 18 in su, tendenzialmente tra 18 e 21, nel senso che se il punto 1 è perfetto, a seconda delle difficoltà però normalmente, o 20 o 21 punti, è il punto di partenza. Se c'è qualche piccola imperfezione possiamo scendere di un punto o due, rimanendo ancora sempre sopra la soglia. Questa è la novità che abbiamo introdotto l'anno scorso, ad alcuni è piaciuto, ad altri non così tanto, però negli anni precedenti partivamo da 18, per cui anche la minima imperfezione faceva sì che l'esame fosse non valido. Allora abbiamo pensato di rendere un pochino più difficile il punto 1, in modo da avere qualche puntocino in più da giocarci, per poter capire la distrazione del momento, magari ti toglie quel punto o quei due punti, ma perlomeno non ti fa saltare l'esame. Comunque questo lo valutiamo al 90%, 95% semplicemente usando il programma, vedendo se funziona, vedendo se l'output è corretto. Eccezionalmente possiamo anche magari dare un'occhiata al codice, per capire se c'è appunto la distrazione, vedere un punto nel codice, ma senza andare a analizzarlo nel dettaglio il codice. La domanda qua è funziona, non è stato scritto bene, male, eccetera. Allora nel caso in cui funzioni, facciamo il primo caso sfortunato, ma più breve, nel caso in cui questo primo punto non funzioni, quindi non dare il risultato corretto, genera delle eccezioni che non deve, il programma non dovrà mai generare nessuna eccezione, nel bloccarsi, eccetera, eccetera. Nel senso che le eccezioni dovete controllare voi all'interno del programma, catturare, gestire. Oppure il risultato non è quello che si aspettava o non funziona, per qualche motivo, fine. Chiaramente l'esame finisce lì. Se invece funziona, vediamo come vi dicevo il voto minimo e a quel punto ci consegnate il progetto. Quindi il progetto fino a quel momento è dentro Eclipse, dentro quel PC del laboratorio, a quel punto diciamo va bene, l'esame è superato, esporto il progetto in uno zip con il tuo nome, cognome e matricola e così ce lo guardiamo con calma per darvi il voto definitivo. Il voto definitivo che cos'è? È un voto in cui noi andiamo a valutare il programma nel suo complesso, quindi il codice, andiamo a vedere il codice, il sorgente Java, sia del punto 1 che soprattutto del punto 2. Il punto 2 è quello più algoritmico, normalmente il punto 1 significa andare a leggere dei dati e magari costruire un grafo, quasi sempre. Il punto 2 significa su questo grafo fare delle analisi più approfondite che possono essere quasi sempre o una simulazione o un algoritmo ricorsivo. Quindi andiamo nella valutazione offline, diciamo se lo consegnate, noi ci vogliamo guardare con calma il codice e soprattutto andando a vedere gli aspetti algoritmici. Nel senso che è ovvio che se anche il punto 2 funziona alla perfezione, questo è 30 o 30 lode e siete a posto, però se non funziona non è così grave come il punto 1. Il punto 1 per noi è quello minimo, semplice che si deve saper fare. Il punto 2 andiamo a vedere anche l'impostazione dell'algoritmo, magari l'algoritmo vi si è dimenticato in caso particolare, non siete riusciti a finirlo in tempo, lo valutiamo chiaramente, abbiamo tutta la fascia di voti che va dal 20 al 30 per valutare quanto avete fatto nella seconda parte, nel secondo esercizio. e quindi a quel punto poi vi pubblicheremo i risultati, prima o poi essenzialmente, quando riusciamo a correggerli che dipende ovviamente dal numero di persone che consegnano. Però in ogni caso quello che è certo è che voi uscite da quell'aula in quel giorno sapendo se avete superato l'esame oppure no. Poi magari non sapete il voto esatto oppure avete un sospetto, un'idea, se dice il secondo punto ho appena accennato, ho scritto 3 righe di codice, vabbè probabilmente non mi aggiunge nessun punto rispetto a quello che avevo, invece se l'ho fatto quale tutto, funziona quale tutto, allora vi potete già immaginare, avete magari preso un buon voto e poi vediamo qual è il valore. Però almeno riuscite ad organizzarvi facilmente con gli appelli di fine carriera in certo senso, visto che siamo al secondo semestre del terzo anno. Ovviamente questi risultati facciamo in modo di darveli prima dell'appello successivo. direi che questo è quanto, non mi viene in mente altro da dire che possa, a meno che non abbia dimenticato qualcosa. Il consiglio che do è chiaramente di puntare a fare l'esercizio completo, non puntare a fare solo il primo punto, cosa che purtroppo storicamente vedo che molti tendevano a fare, perché dici vabbè tanto basta questo, ti basta questo, però per esperienza se ti prepari solo per questo la probabilità che non ci arrivi probabilmente è alta, perché è facile se uno si è preparato complessivamente sul corso, se uno si prepara solo su quello c'è anche il rischio di non arrivarci. A me piace lavorare di più e valutare più delle vostre prove. Cercheremo anche, anche se questo non lo prometto sempre in tutti gli appelli, dopo l'esame di pubblicarvi le soluzioni possibili, quelle che siamo risolto noi, di quell'esercizio in modo che lo possiate poi controllare, confrontare, mentre aspettate i risultati. Questo è essenzialmente il modello di svolgimento, nulla di particolarmente nuovo, salvo che questo meccanismo entra e esce, etc. L'altra cosa che succede è che a volte quando ci sono persone che a un certo punto dopo che hanno consegnato si accorgono che probabilmente l'hanno sbagliato, allora decidono di rinunciare, quindi di andarsene essenzialmente senza fare la verifica al PC, perché magari, tanto sono sicuro che ero sbagliato, non è che aspetto un'ora che mi chiami per vedere il problema, allora a quel punto lì io prima di chiamarli uno a uno mi chiedo se qualcuno vuole ritirarsi, può darsi che ci sia qualcuno. Ecco, l'altra cosa, c'è a voi in mente qualcosa, non sa proprio quale, quale, fate attenzione che il progetto che consegnate, che ci fate vedere è uno e deve funzionare in quel momento in cui lo guardiamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se durante lo svolgimento, dopo la prima ora avete il punto uno funzionante, perfetto, cominciate a sviluppare il punto due eccetera. Però negli ultimi, continuate a verificare che il punto uno continua a funzionare, ok? Non che andate avanti, magari si modifica il controller, c'è un errore di compilazione eccetera, allora il punto uno funzionava e poi però lavorando nel punto due l'ho rotto, o perlomeno, capita, tu scrivi un metodo, c'è quegli errori di compilazione in rosso, nel momento, gli ultimi dieci minuti usateli non per sviluppare un nuovo codice all'impazzata, ma per verificare che almeno la parte uno funzioni. Perché altrimenti vi fate molto del male da soli, perché noi arriviamo lì, per partire, no non parte, non compila, c'è degli errori, allora a questo punto, ah ma sì perché ho aggiunto questo, però capite che in una valutazione sul momento così non si può entrare nel dettaglio, ah questo è una svista, questo l'ho messo in punto in virgola, l'ultimo momento eccetera, ok? E non è accettabile, alcune volte lui dice, ah no ma io ho questa versione che funzionava, allora guardiamo questa ma poi ti consegno quell'altra, no? Perché c'è già anche il punto due dentro, no, ciò che consegnate è una cosa sola, ok? Quindi fate solo attenzione, come si dice, a non fare regressioni, cioè nel senso che ciò che funzionava prima non fatelo tornare indietro, non fatelo non più funzionare mentre andate avanti a sviluppare i punti successivi. Sicuramente è comodo, magari quando sei in una versione funzionante te la salvi da qualche parte, no? Ti fai una copia del progetto, poi te lo tieni lì, mal che vada, torni indietro a quel punto lì e cominci a lavorare su un altro ma nel frattempo mantienilo funzionante. Ok, fine dell'introduzione. Allora, dicevo, cosa facciamo oggi? Oggi cominciamo a fare un primo tema d'esame, io mi metto nelle condizioni in cui saremo all'esame, quindi parto da zero, scarichiamo, così vediamo anche i vari passaggi pratici, no? Allora, inizierei a fare oggi e poi terminiamo domani sera, l'ultimo tema d'esame che abbiamo dato, questo qua del 23 gennaio, poi nell'ora successiva cominceremo quello del 23 settembre e andremo avanti così a concluderli. Allora, io mi apro il testo d'esame che parla del database delle nazioni essenzialmente, dei confini che abbiamo già visto. Ah, ecco, l'altra cosa che ho dimenticato di dire è che normalmente si chiudono le prenotazioni all'esame due giorni prima, no? Come sempre sul portale. Io nel momento in cui si chiudono le prenotazioni faccio i turni, quindi vedo quante persone ci sono, decido se servono due turni, se servono tre turni, sorteggio l'ordine, no? Prendo l'elenco alfabetico, lo taglio in tre parti uguali e poi sorteggio l'ordine con cui vengono chiamati i tre gruppi e vi mando una mail dicendo, no? E pubblicando sul portale anche la composizione dei gruppi, gli orari, quando si entra, quando si esce, eccetera, eccetera. L'appello è l'inizio della prova. In quella mail vi dico anche qual è il database che usiamo, che useremo durante l'appello. O è uno dei database che abbiamo già usato oppure vi dico guardate che il database lo prendo da quel sito lì, così voi un giorno e mezzo, due giorni prima potete già cominciare a dare un'occhiata a come sono organizzati i dati. Magari non c'è proprio la SQL, nel caso in cui magari lo importi da un altro sito, però perlomeno sapete già quali dati ci sono. L'altra cosa che vi avevo detto prima, lo ripeto, se qualcuno ha delle sovrapposizioni di esami con altri appelli nello stesso giorno, me lo dice, così io ne tengo conto per la distribuzione nei turni. Ok, fine parentesi. Allora, dicevamo, questa volta era un database che già conosciamo perché l'abbiamo già usato durante il corso e vabbè, qui spiega il testo, si considera il database contenente di informazioni e soluzioni di confini tra diverse nazioni al mondo, che già conosciamo, spiega cosa fa la tabella country, riporta le nazioni definite in cui ciascuna nazione è identificata con un numero, un'abrilezione univoca di tre lettere dal nome completo, lo sappiamo. La tabella contiguity rappresenta per ogni coppia di stati, stato 1, stato 2, il fatto che tali stati fossero confinanti a partire da quell'anno. I tipi di confine sono diversi, ma ci interessa esclusivamente il confine via terra, quindi quel contiguity type uguale 1. Vabbè, questa è la descrizione del database. Poi c'è effettivamente il testo di ciò che si vuole costruire, è un'applicazione JavaFX che permette di interrogare tra le base dati e restituire informazioni utili sull'analisi, utili all'analisi di flussi migratori tra stati. L'applicazione dovrà svolgere seguenti funzioni, punto 1 e punto 2. Allora, punto 1 cosa chiede? Permettere all'utente di specificare un anno di interesse, quindi in questa casa di testo inserisce un anno, e di richiedere il calcolo dei confini, c'è un bottone calcolo a confini. A questo punto creare un grafo che rappresenti la situazione dei confini mondiali nell'anno specificato dell'utente. Le relazioni di confini da considerare sono tutte quelle cui il campo IR sia minore o uguale all'anno specificato. Il testo dell'esame va a volte anche un pochino più in dettaglio rispetto a quanto siamo abituati nelle situazioni, giusto per rimuovere ambiguità. I vertici del grafo devono rappresentare le nazioni presenti in quell'anno e gli archi non orientati, non pesati, devono rappresentare il fatto che le nazioni confinano via terra. Punto 3, cioè C, stampare l'elenco degli stati, l'appreviazione e il nome, indicando per ciascuno il numero di stati confinanti. L'elenco deve essere stampato in ordine decrescente del numero di stati confinanti. Questo qua ovviamente dovrebbe essere stampato in questa casetta di testa. Quindi questo è il punto 1. Leggere i dati, creare un grafo e alla fine il numero di stati confinanti e poi il grado dei vertici del grafo, stampare i vertici e col grado di ciascuno a fianco. L'unica forza e difficoltà è l'ordine decrescente che scrive tre righe di codice in più. Questo è il punto 1. Punto 2, leggiamolo, ma poi lo leggiamo brevemente e poi lo rileggiamo con calma dopo. In questo caso si chiedeva di simulare, di permettare una simulazione sul database di prima, sul dataset di prima, simulare la diffusione di una serie di mille immigrati che vengono inseriti in uno stato iniziale, selezionato dall'utente tra quelli presenti nel grafo e si spostano tra gli stati secondo le regole enunciate di seguito. Qui noi abbiamo questa mappa mondiale con tutti gli stati, noi simuliamo di avere mille persone che vengono posizionate in uno stato e poi vediamo cosa succede a quelle mille persone. Cosa succede sulla base di queste regole? Al tempo iniziale t uguale 1, tutti i mille immigrati sono nello stato iniziale che ha scelto l'utente. Ogni volta che degli immigrati entrano in uno stato, sia al tempo 1 che ai tempi successivi, immediatamente il 50% di tali persone diventano stanziali, cioè si stabiliscono in quello stato, ossia non si muoveranno più dallo stato. Il rimanente 50%, che poi calcoliamo approssimato per difetto, rimane non stanziale, cioè si continuerà a spostare nei stati confinanti. Quindi mille persone le mettono in uno stato X, di queste 500 diventano stanziali e 500 no, si sposteranno. Dove si sposteranno? Ad ogni nuovo istante di tempo, la popolazione non stanziale, quindi 500 che non si è affermati, ciascuno stato si sposta e si divide in parti uguali, anche qua approssimate per difetto, tra tutti gli stati confinanti. Quindi se in questo stato aveva 4 stati confinanti, quelle 500 persone si divideranno in 4 gruppi uguali di 125 persone. e questi gruppi di 125 persone, ciascuno andrà a spostarsi in uno dei 4 stati confinanti. Se per caso la divisione non è intera, nel senso che in questo caso 500 diviso 4 faceva 125, non aveva nessun resto. Nel caso in cui ci sia un resto, il resto rimane stanziale, rimane in uno stato di partenza e non si sposta. Come caso particolare, ma in realtà è già riassunto la regola del resto, se per caso il numero di persone che si dovrebbero spostare presenti in uno stato è inferiore al numero di stati confinanti, cioè le persone non stanziali sono 3 e il numero di stati confinanti sono 4, non si sposta nessuno. Ovviamente questi 125 vanno a finire in questi stati confinanti, al tempo successivo di questi 125 metà diventano stanziali nello stato confinante e l'altra metà si risposterà con la stessa regola, negli stati confinanti a quest'ultimo. Confinanti a quest'ultimo di cui ovviamente c'è anche lo stato di partenza, la regola è generale, dallo stato a tutti quelli confinanti, dipende quanti ne ha. Quindi immaginiamo che abbia 3 confinanti, 125 diviso 2 sono 62, 62 rimangono stanziali, anzi 63 e gli altri si dividono in 3 stati diversi, quindi 20 persone, in ciascuno dei 3 stati confinanti, di cui 20 tornano in uno stato di partenza e gli altri 20, più 20 vanno in altri due stati, tra virgolette nuovi, oppure stati che a loro volta fossero confinanti con quelli di partenza, non ci interessa, vanno a spostarsi in altri stati. E questo va avanti, tutti gli stati confinanti, tutti gli stati confinanti avranno lo stesso numero di persone, è quindi possibile che alcune persone ritornino indietro al tempo T più 2, nel stato in cui erano il tempo T, è un fenomeno normale e non deve essere trattato in nessun modo particolare, non devo evitare queste cose qua. Ad ogni passo di simulazione il numero di persone ancora non stanziali si riduce almeno nel 50%, ovviamente, almeno perché il 50% di sicuro rimangono stanziali e poi ci sono tutti i resti delle divisioni che non si spostano. Pertanto a un certo punto la simulazione si esaurerà in in quanto tutti saranno divenuti stanziali e a questo punto ti fermi, questa è la tua condizione di fine della simulazione, quando non hai più persone che si spostano. A quel punto devi dirmi il numero di passi simulati e per ogni stato in cui vi sia almeno una persona stanziale stampare il nome dello stato e il numero di persone presenti, sempre stampato in ordine decrescente per numero di persone. e questa è la simulazione che veniva richiesta per il punto 2. L'ho letta subito anche se cominciamo adesso ad implementare il punto 1 perché questo elenco stampato in ordine decrescente del numero di qualcosa e questo elenco stampato in ordine decrescente del numero di qualcosa è un punto che ritorna, quindi quando lo implemento magari lo faccio una volta sola per tutte e due, penso già a come farlo. Conviene sempre dare un'occhiata avanti perché magari mentre faccio il punto 1 mi preparo già qualche cosa che mi serve per il punto 2. Ok, questo è il nostro testo. Partiamo dall'inizio ovviamente. L'inizio significa andare a caricare il progetto base, lo salviamo da qualche parte in una cartella temporanea e me lo importo in Eclipse. Allora qui abbiamo un progetto in formato zip, quindi non lo importiamo come progetto da git in cui eravamo abituati, ma lo importiamo da questa voce, crea nuovi progetti a partire da un file archivio o da una directory o da una cartella. Io prima o poi riuscirò a picchiare colui che in Eclipse ha inventato la prima voce, importa da un file archivio che non c'entra niente perché se lo andate a leggere importa le risorse da un file archivio in un progetto esistente e quindi quando provate a farlo non ci riuscite perché in che progetto vuoi metterlo eccetera. Questo qua qualcuno ha scritto così e probabilmente deve essere scappato velocemente perché nessuno è riuscito ancora a beccarlo. Comunque la voce che ci serve è questa e ci chiede ma tu vuoi importare da una cartella che hai da qualche parte in cui c'è già un progetto e lo vuoi importare nel workspace oppure da un file archivio. In questo caso è un file zip, lo andiamo a cercare, dove l'ho salvato, una cartella temporanea qua, questo e quando trovo l'archivio Eclipse mi dovrebbe dire che dentro questo archivio ha trovato un progetto, va bene, vogliamo importarlo, finish e abbiamo questo cosiddetto progetto base del nostro appello, del nostro esame. Allora lo potete fare subito o lo potete fare dopo, nel senso che quando poi consegnate l'esame, noi poi vi chiederemo di rinominare il progetto con la solita stringa S, numero di matricola, cognome, nome, in modo che poi quando ce le consegnate non si chiamino tutti esame 2017, altrimenti non capiamo più di chi sono, quindi se volete farlo subito facciamo così, io faccio finta di avere una matricola con il mio nome, ce l'avevo ma non ve la dico, è la più piccola di questa decisamente. Ok, e questo è il nostro progetto. Adesso andiamo a vedere cosa ci hanno messo in questo progetto. Essenzialmente vi do già un progetto che contiene le librerie principali che vi servono, qui in questo caso c'è il connettore MySQL e JgraphT, così non volete scaricarvele, eccetera, le metto già dentro il progetto, un controller che in questo caso contiene già dei metodi vuoti, vi diamo già un fxml che contiene già lo scheletro dell'interfaccia e da lì partite. Poi in questo caso, questa casa di testo aveva già un nome, quindi a volte diamo già un nome oppure dei nomi di eventi ad alcuni bottoni, altre volte probabilmente dovrete aggiungere qualche cosa perché vi serve, è tutta una base di partenza questa, poi da lì potete costruire, semplicemente per accelerarvi un pochino, da un lato la stesura del codice e dall'altro rende anche più facile per noi andare poi a confrontare i vari progetti perché a questo punto sappiamo già come si chiamano gli elementi, come si chiamano i metodi che abbiamo già preimpostato, quindi è più facile anche per noi andare a orientarci nel vostro codice, visto che non dobbiamo vedere importanti. Poi in questo caso molto spesso c'è una bozza di classe DAO che fa una query anche molto semplice, non ricordo neanche più quale ci fosse in questo appello, con lo scopo di testare facilmente se tutto funziona, se avete importato correttamente il database, non è detto che questa query vi serva o vi serva esattamente così che possa essere modificata, è semplicemente un metodo che in questo caso c'è una query, c'è un metodo, c'è un main che mi permette di verificare al volo dopo che ho importato il progetto, se il progetto funziona, se tutte le biblioteche che mi servono, se si collega il database eccetera eccetera, quindi per quello imbastiamo già un metodo del DAO e a volte, anzi spesso, anche in un package model ci sono uno o più java bings, quindi classi base che rappresentano i dati, quindi tutta la parte, diciamo così più di basso livello, meccanica, l'impostazione del progetto ve la diamo già data. Occhio che non è detto quando guardate questi bing che abbiano tutti i metodi che vi servono, c'è il discorso delle scode equals, ma in questo caso c'era già, però magari a voi serve diverso, perché come usate quell'oggetto lo saprete solamente voi, deve essere inserito in una coda prioritaria, deve essere comparable, deve essere ordinato, il comparatore lo dovete aggiungere voi e così via, quindi non date per scontato che questi oggetti che vediamo qua nel progetto non debbano essere toccati, se vi va bene va bene così, se invece dovete aggiungerli, modificarli è roba vostra, quindi fate cosa volete, non è detto che sia esattamente la versione perfetta, definitiva. Però diamo un'occhiata e ci orientiamo in questo progetto. Poi dentro il progetto c'è una cartella db, dentro il quale c'è il nostro database. Allora prima di iniziare a lavorare in Java ovviamente ci dobbiamo importare il database. portare il database, questo è un file zip e quindi anche qua dovrò aprirlo, open with system editor, lo apro e questo lo copio sempre in una cartella temporanea, sempre e poi me lo importerò. Non è qua, non è qua, eccola qua. Quindi questo countries.sql me lo devo importare. Quindi aprirò il mio ID.sql, mi collego, no, non mi collego perché il database non l'ho avviato, servizi, dove è la mdmysql. Io qua sto usando MariaDB installato direttamente sulla macchina. Se usate XAMPP dovete avviare il database ovviamente usando XAMPP. Ok, adesso è running e quindi dovrei riuscire ad accedervi. Ok, quindi ho già dei database che ci possono essere su quella macchina. importo quello che ho appena scaricato, abbiamo detto che l'ho messo in questa cartella temporanea ed eseguo la query. C'è sempre questo messaggio che dice che l'importazione da dei warning, ma non è un problema e alla fine abbiamo il database countries descritto nel testo. A questo punto possiamo, come dicevamo, a testare. In questo caso appunto c'era un metodo di main nella classe DAO che fa questa, dunque, load all countries per ciascuna country la stampa, giusto per vedere se funziona. Ovviamente dovete verificare a seconda del nome del database che avete dato e della password del database che c'è su quella macchina, eventualmente dovete modificare la stringa di connessione che c'è dentro al dbconnect. In questo caso questo dovrebbe funzionare e quindi se io eseguo questo programma, che è solamente la classe DAO, chiaramente, dovrei vedere esatto che qualcosa funziona. Quindi è in grado di leggere il database e mi stampa l'elenco degli stati. Ok, quindi sono riuscito a importare e a far funzionare il progetto base. A questo punto adesso comincio a costruire. Comincio a costruire cosa? Comincio a costruire ciò che mi chiede il famigerato punto 1. Quindi creare un grafo. Un grafo che rappresenta la situazione dei confini mondiali nell'anno specificato dall'utente. Quindi avrò bisogno di una classe model che istanzi un grafo, questo grafo dovrà avere come vertici probabilmente l'oggetto country che abbiamo già visto e poi deve popolare gli archi tra questi vertici. Da qua in poi sono tutte scelte vostre, nostre, individuali. Come faccio a costruire il grafo? Quali dei metodi di uso per costruire gli archi? Quanti mi serve costruire un identity map o no? Come devo modellare l'ORM, le relazioni devo modellare oppure no? Mi serve un oggetto contiguity oppure no? Ci sono mille varianti, tutte possono portare alla soluzione giusta. Quindi non c'è da questo momento in avanti una via preferita rispetto alle altre. Cercate solo di evitare magari di ficcarvi in delle strade per cui poi i tempi di esecuzione siano molto lunghi. Il tempo di esecuzione noi non andiamo a valutare, non entra a far parte del voto all'esame, si entra a far parte del voto della seconda parte, diciamo il furbizio dell'algoritmo. Però se uno ha un programma che funziona nel punto 1 e ci mette 10 secondi e un altro ha lo stesso programma che funziona e ci mette 3 minuti, va bene lo stesso. Se ci mette 30 minuti no che non va bene perché non riusciamo a correggerlo, non riusciamo a vederlo, a vederlo funzionare e voi stessi non siete riusciti a provarlo, a verificare che funzionasse. Quindi evitate gli algoritmi che magari vi portano a tempi di esecuzione esagerati. Allora dicevamo devo creare un modello che contenga il grafo, quindi creiamo una classe model che non c'era ancora e questo modello principalmente dovrà, dicevamo, creare il grafo, creare cosa? Un grafo mi dice lui i cui vertici sono delle nazioni, i vertici del grafo rappresentano nazioni e gli archi sono non orientati e non pesati, quindi un simple graph, grafo non pesato non orientato, quindi un undirected graph di vertice country, edge default, port, poi mettiamo in private davanti, grafo, e nel costruttore del modello possiamo stanziare graph, a new simple graph di default edge.class. Quindi nel costruttore del modello creiamo l'oggetto grafo vuoto e poi ci predisponiamo un metodo del modello crea grafo che riceve come parametro un anno. Public void. Quindi in questo caso il metodo crea grafo popola il grafo con i dati di quell'anno corrente. La variabile anno può essere o un int, se vogliamo una cosa più semplice, oppure potrebbe essere un oggetto già appunto time, punto year, che abbiamo visto l'altra volta, la classica per rappresentare gli anni, possiamo anche usare quella, è abbastanza indifferente in questo caso. Non dovendoci fare particolari manipolazioni è abbastanza indifferente. E quindi qua aggiungiamo, aggiungi gli archi, i vertici scusa, e aggiungi gli archi al grafo che presumo vuoto. Allora qua mi faccio già una prima domanda, su cui poi io cerco man mano che vado avanti di cercare di ricordarmi anche quelli che potevano essere gli errori frequenti che abbiamo riscontrato in sede d'esame. Se facessi così, il problema che ho è cosa succede, andiamo in preview, l'utente mette un anno 2006, calcola confini e lui calcola il grafo, stamperà le cose. Cosa capita se poi dopo, subito dopo, senza chiudere e riavviare il programma qualcuno scrive 1900 e rischiaccia calcola confini. Allora, ciò che deve succedere, lo so, deve calcolare i confini del 1900 dimenticando quelli precedenti. Però dobbiamo farlo succedere a livello di codice. Messo così c'è un rischio, nel senso che io il grafo l'ho creato una sola volta. Quando chiamo crea grafo due volte, aggiungi i vertici, tenderebbe ad aggiungere una seconda volta, sappiamo che male non fa, è solo un po' di tempo sprecato, perché in realtà i vertici sono in un sete, quindi non è possibile inserire due volte lo stesso vertice, però aggiungere gli archi significa che non cancella gli archi precedenti, ne aggiungi dei nuovi. Quindi abbiamo due scelte, o nella crea grafo, prima di aggiungere vertici e archi, carcello quelli vecchi, oppure, forse faccio prima, a buttare via tutto e creare un grafo nuovo da zero. Quindi io il grafo non lo creo al costruttore del modello, in questo caso lo creo ogni volta che viene chiamato il metodo crea grafo. In questo caso mi sembra forse più semplice così. Perché è più semplice? Perché ho scritto una riga di codici anziché 3 o 4 per andare a cancellare gli archi, cancellare i vertici, eccetera. Quindi se dà lo stesso risultato e richiede meno tempo di implementazione, è una cosa buona. Ok, a questo punto non è detto che sia sempre così la soluzione, dobbiamo sempre ragionare su che cosa succede non solamente la prima volta che il programma viene eseguito, ma il fatto che l'utente può richiedere le funzioni del programma più volte. Quindi dobbiamo fare attenzione a che cosa rimane di vecchio e cosa vogliamo che rimanga e cosa invece vogliamo ricostruire da zero. Allora, aggiungere i vertici è facile perché è già fatto il metodo load all countries, che quest'anno avremmo chiamato list countries, ho cambiato leggermente i nomi dei metodi del DAO come convenzione, ma la sostanza è sempre la stessa. ce l'abbiamo già, quindi magari ci potrebbe anche far comodo tenerli, mentre lo leggo me lo salvo perché magari mi serve in un altro momento, anzi di sicuro mi serve in un altro momento quando ho la tendina da popolare. Quindi anziché prendere le counti e usare direttamente per aggiungere i vertici del grafo, me li salvo in una lista e poi giurrò questa lista per creare il grafo, ma anche per definire il contenuto di questa tendina qua. Quindi una lista di country, countries possiamo chiamarlo, java.util, quindi per aggiungere i vertici innanzitutto countries uguale DAO.loadAllCountries e una volta che ce l'ho questo elenco di countries che tra l'altro va a soppiantare l'eventuale elenco precedente, perché se avessimo già schiacciato questo bottone una volta avremmo già l'elenco dentro countries, questo loadAllCountries lo ricarica da capo, da zero e questa lista viene sostituita a quella precedente. Questo forse è inutile perché loadAllCountries mi restituirà sempre gli stessi elementi, però potrei evitarlo la seconda volta, diciamo così, potrei vedere la seconda volta se countries è diverso da null e evito di ricaricarlo, eventualmente sono aggiunte che si possono fare dopo queste. Quindi ho la lista dei countries, delle città e quindi posso aggiungerle al grafo come vertici, quindi graphs.addVertices, addAllVertices del grafo graph dell'elenco countries, this.countries. E qui ho risolto il problema dei vertici. Adesso dobbiamo aggiungere gli archi. Aggiungere gli archi significa trovarli prima di tutto quelli che soddisfano un determinato vincolo relativo all'anno. Quindi dobbiamo trovare le coppie di country che sono legate alla tabella contiguity in cui l'anno sia minore o uguale del parametro passato, di questi valori qua. Quindi dobbiamo trovare una query, in modo più veloce, una query che media già direttamente le coppie di stati che sono i vertici. Con una query sola ce la caviamo. Ce l'avevamo già anche fatta, però poi dimentichiamoci che abbiamo già fatto un residuo molto simile e ricostruiamola da zero. Allora, una query che restituisca le coppie di stati il cui anno è minore o uguale di... Allora, proviamo a scriverla. Qui sono su contiguity, quindi select from contiguity. Di sicuro la condizione che l'anno, che si chiama year, sì, è minore o uguale o minore? Cosa dice il testo? L'anno sia minore o uguale, ok, all'anno passato, diciamo 2000 ad esempio. E cosa seleziono? La cosa migliore, la cosa più semplice è il primo e secondo numero di stati. E quindi ho qua già le coppie di numero di stato che voglio collegare. Adesso, come faccio a passare dal numero di stato al country? Perché io dovrò aggiungere un arco, ma un arco è tra... Nel mio grafo ho dei country, non degli interi. Quindi nel mio add edge dovrò passare due oggetti country. Allora, i modi sono due, di base. Il primo modo è complicare questa query in modo da avere tutte le informazioni per poter costruire un oggetto country vero e proprio. Allora questa query mi restituirà non due numeri interi, ma due oggetti country. A questo punto posso aggiungere l'arco. L'altro modo è quello di dire, no, lasciamo la query così che è più semplice, più veloce e ci costruiamo nel codice Java una mappa che ci permetta di ricondurci dal numero di stato all'oggetto country corrispondente. Una sorta di identity mappa alla buona. Scelgo questa seconda strada. Però scelgo, possiamo anche farlo nell'altro modo. In ogni pensiero di biforcazione ci sono modi diversi di risolverlo. Mi sembra più semplice o più veloce far così. Quindi aggiungere semplicemente una mappa che mappa un integer in un country, la chiamo country map, e questa country map la la creo e l'inizializzo qua. New hash map. Ovviamente l'inizializzo la devo riempire con tutti i riferimenti che mappano il numero di stato con lo stato vero e proprio. Quindi for country c due punti this.country map.put. Il numero intero che cos'è? C.getCountryCode, virgola c, la country. Quindi popolo la mappa associando ciascun intero che è country code di uno stato C, l'oggetto completo C che rappresenta lo stato, la country. Questo mi permetterà poi di aggiungere gli archi, avendo anche solo la coppia di country code. Ok, allora questo metodo del DAO che ci serve, public, dovrà restituire che cosa? Una lista di coppie di interi, giusto? Una lista di oggetti che contengono ciascuno due numeri interi, due country code. Allora mi posso creare un oggetto, se non sbaglio c'è già in Java un oggetto che si chiama pair. GetCountryPairs. Anno. Java, Java, JavaFX. No, non è questo. Vabbè, facciamo finta di niente. potremmo anche, io ricordavo, ma che esistesse un oggetto del genere. Abbiamo, siamo all'esame, abbiamo internet. Ok, c'è ma non è, non è nella libreria standard, questa libreria Paci Commons, ricordavo perché sono estensioni alle collection, essenzialmente abbastanza usate, ma non c'è nella libreria standard. Quello che c'è in JavaFX dice che rappresenta name value pair, coppie nome valore, che non è quello che ci interessa. Ok, non c'è, non c'è già pronta, ce la facciamo. Quindi nel modello ci aggiungiamo un'altra classettina, integer pair, che conterrà semplicemente numero 1, numero 2, che sono i due country code. Costruttore, get a set, per n1 e per n2. Mettiamoci in private qua davanti. Ok. Quindi il nostro DAO dovrà restituire una lista di questi integer pair. Mi serve un veicolo che mi contenga i dati che mi servono. Prima trovo se c'è, già un oggetto che fa al caso mio, non c'è, allora me lo costruisco. Quindi a questo punto la query sarà questa che abbiamo testato prima, select stato 1, stato 2, con contiguity, quindi, ricordatevi gli spazi qua dentro, where hanno minore di punto interrogativo, questo è il parametro, questa è la query che vogliamo eseguire. E quindi il DAO eseguirà questa query, connection uguale dbconnect.getconnection, prepare statement uguale connection.prepare statement, passandogli la SQL, togliamo la finestra, ovviamente qui abbiamo un try catch, aggiungere per gestire l'eccezione, dopodiché questo statement, prima di eseguirlo dovrò iniettarli il valore, l'anno, al posto del punto interrogativo. Quindi statement.set int, primo parametro che anche l'unico hanno. Result set, result uguale statement.executequery e a questo punto sono pronto a estrarre questo elenco di valori che mentalmente è questa tabella, se lo visualizziamo con questa tabella all'interno di una lista di copie ed interi. Quindi while result.set.next aggiungo il risultato, allora il risultato è un oggetto che devo preparare prima e poi aggiungersi qui dentro, quindi list integer pair result uguale new array list e quindi qua dentro result.add aggiungo un nuovo elemento che è un nuovo integer pair il cui n1 sia la prima colonna della query, quindi result set punto get int della colonna state 1 number e la seconda componente di questo oggetto è il result set punto get int di state 2 number che era sopra. a questo punto abbiamo il risultato che contiene un elenco di coppie di interi. Possiamo chiudere la connessione, non dimenticate mai connessione.close, se no il programma dopo un po' che gira smette di funzionare perché satura le connessioni e poi return result. mettiamo return null, se capita qualcosa almeno ce ne accorgiamo da un null ritornato dal metodo. quindi questo è molto semplice, se funziona come dovrebbe ci aspettiamo di poterlo usare dal nostro model per ottenere tutte le coppie di numeri interi che corrispondono alle country da collegare all'interno del grafo. quindi avremo la nostra lista di integer pair confini, ce la facciamo dare dal DAO passando l'anno che riceviamo come parametro, quindi anno. questo anno arriverà dal controller ovviamente. e questi confini le vado a analizzare, questa è una lista di coppie di interi e creare per ciascuna coppia e creare l'arco corrispondente, quindi for integer pair p due punti confini, l'ho fatto, aggiungo un arco passandogli country1 o country2, allora country1 che cos'è? country1 è la country che corrisponde a p.getn1 la country che corrisponde la ottengo dalla mappa, quindi sarà un this.countrymap.get dp.getn1 e idem l'altro dove ho un getn2 questo ovviamente funziona anche in casi limite, in alcuni casi limite non in altri, cioè se questa lista confini fosse una lista vuota, cioè l'utente come anno indica l'anno 30, non 1930. allora la query troverà niente, probabilmente, se io anziché 2000 metto 30, non ho coppie di stade perché questo dataset parte dal 1400 in avanti o qualcosa del genere, o 1700, non ricordo. ma dobbiamo anche aggiungere che il contai si deve sottugare 1 che il? il contai per il il che il cont, sì, grazie, nella query, adesso lo aggiungo sì, non abbiamo filtrato sul tipo di contiguità tra stati, quindi devo modificare la query finisco solo la frase che stavo dicendo prima quindi nel caso in cui l'anno sia troppo presto, in certo senso, questo elenco di confini è una lista vuota il che vuol dire che avrò un grafo che ha tanti vertici ma zero archi, che di per sé non è malato o perlomeno il modello può essere contento così, magari è ciò che gli chiedevano sarà poi il controller che eventualmente stampa e dice attenzione non ci sono archi nel grafo oppure non ci sono stati confinanti però di per sé non è sbagliato, non c'è un errore, è un grafo un po' anomalo, però il modello non deve arrabbiarsi diverso è se questo dao getCountryPers si torna un null, perché vuol dire che c'è stato, noi l'abbiamo ritornato come eccezione c'è stato un errore nel collegamento con database, quindi in questo caso dovremmo catturarlo giustamente mi fanno notare che la query non è completa, qui devo aggiungere un pezzo che contiguitytype sia uguale 1, che chiaramente limita il risultato, solamente questo tipo di confine, quindi lo prendo lo aggiungo al dao, più, così. Ok, quindi in questo caso dovrebbe essere occhio croce completo. Possiamo provare a verificarlo, possiamo mettere anche solo un semplice metodo, o una classe test model, o una semplice main. all'interno del modello m.creagrafo dell'anno 2000 come valore di esempio system.out.println m.creafo posso accedere alla variabile graph perché sono dentro la classe, se fossi in una classe test model separato non potrei leggere chiaramente graph che è una variabile privata, dovrei esporla con un metodo get graph ad esempio. quindi adesso possiamo provare almeno la costruzione del grafo allora allora dove siamo in model run cosa mi ha stampato? Mi ha stampato l'elenco degli stati quindi e vabbè ci siamo e poi l'elenco di coppie di stati che dovrebbero corrispondere ai confini minore o uguali minore o uguali di quell'anno quindi a prima vista sembra perlomeno non si è piantato sembra funzionante se cambiassi l'anno e facciamolo così chiamiamolo due volte questo metodo visto che nella teoria l'abbiamo pensato in modo che funzioni correttamente 1700 1700 ho qualcosa andiamo a vederlo no non ho più niente quindi andiamo più avanti vabbè 1900 ho già qualcosa ok quindi avrò l'elenco degli stati che è uguale ovviamente per come l'ho costruito li metto sempre tutti dentro e l'elenco però qua inizia qua l'elenco delle degli archi che è diverso Stati Uniti Canada invece qua nel 1900 scurata l'ignoranza può darsi che il Canada non esistesse ancora ma il Messico si e quindi i confini che saltano fuori sono diversi ok qualcuno di voi esperto nella storia del Canada magari mi sa dire perché nel 1900 gli Stati Uniti non fossero confinati col Canada ok un metodo per verificare se abbiamo contenuto il grafo potrebbe essere per stampare il numero degli vertici creati anche quello dei vari allora lui mi chiede come fare a sapere se il grafo che abbiamo costruito è giusto non puoi nel senso che dovresti sapere esattamente come deve venire allora quello che si può fare è andare ad analizzare il risultato magari guardando la campione cercando si tu dici stampo il numero di archi e il numero di vertici va bene allora se poi il numero di vertici è 206 è giusto o sbagliato? con la Quiri ma la Quiri era giusta o sbagliata? si si ma la Quiri te lo dice eh 190 quindi se tu dici se io nel mio grafo 190 o meglio la metà di 190 archi perché qua dovrebbero essere tutti doppi no? 101 e poi c'è 101 100 sotto quindi nella Quiri ti vengono fuori tutti e due volte quindi nel tuo grafo avrai se la Quiri è di 190 righe sull'anno 1900 dovresti avere quanta fa? 95 archi quindi in quel caso hai un controllo di coerenza tra quello che ti dà il database e quello che hai costruito nel grafo poi magari era sbagliata la Quiri a monte quindi la certezza esatta uno la può avere solamente se lo confronti il risultato finale con qualcun altro che ha diciamo così la certezza del risultato quello che possiamo fare chiaramente sono dei controlli controlli per vedere che ciò che abbiamo creato abbia senso no? sia coerente perlomeno no? cioè se vedo che la Quiri a 190 e il grafo ha 10.000 archi non va bene se ha 190 archi anche non va bene perché vuol dire che avrò fatto degli archi diretti orientati anziché non orientati no? quindi un po' dobbiamo spendere un po' di tempo ad analizzare ciò che abbiamo fatto la certezza assoluta che non abbiamo sbagliato non ce l'ho ma non ce l'ha nessuno ok allora a questo punto siamo quasi alla fine nel senso che cosa dobbiamo farcene di questo risultato? qua ci diceva il testo ci diceva beh dopo che hai costruito questo grafo stampa l'elenco degli stati abbreviazione e nome e abbiamo un po' di fortuna perché il two string dell'oggetto country mi dà già l'abbreviazione e il nome indicando per ciascuno il numero di stati confinanti questo è facile perché il grafo è il grado del vertice quindi qualcuno qua può dire per ciascun country devo trovare gli stati confinanti devo fare una query select count dei confinanti sempre nella tabella contiguiti no queste informazioni in questo caso ce l'ho già nel grafo se volete potete anche farvi la query vi fate questi 190 query in più no però prima vediamo se queste informazioni ce le abbiamo già il fatto che abbiamo costruito un grafo forse ci dà già la facilità di avere una certa serie di informazioni legate a quali sono i vertici come sono collegati e così via quindi io leggo stati confinanti non come numero di righe nella tabella contiguiti bensì numero di archi che sono incidenti sul vertice country l'elenco deve essere stampato in ordine decrescente del numero di stati confinanti vabbè non è difficile però una palla perché devo avere una lista ordinata per un criterio che non è in questo caso gli stati ci sono saltati fuori in ordine dove è andata la console in ordine alfabetico in certo senso noi invece dobbiamo stampare in un modo diverso allora per farlo abbiamo bisogno di mettere in ordine una collection una lista che sia ordinata però sulla base del numero quindi devo prima costruire questa lista e ordinarla vabbè vuol dire che ci vorranno tre minuti a costruirsi un nuovo oggetto che tenga dentro una country e un numero no? num and num non mi viene un nome più furbo per questa classe che contiene dentro country country e un private int num e questo oggetto non fa altro che vabbè un bin semplice semplice il costruttore che prende i due campi i get resetter ma soprattutto questo oggetto lo creiamo perché sia ordinabile per numero quindi questo classe qua deve soprattutto implementare l'interfaccia comparable di country and number e quindi devo aggiungere soprattutto il metodo compare to che confronta due elementi secondo il criterio del numero decrescente quindi di base io farei di this punto number meno other punto number questo comparatore mi darebbe l'ordine crescente ok? perché mi dice che il primo oggetto è maggiore del secondo se il numero è maggiore del secondo io voglio però che questo comparatore mi dia l'ordine decrescente quindi o faccio il sort al contrario oppure faccio il comparatore al contrario ci metto un bel meno davanti e questi oggetti si ordinano in ordine decrescente di numero a questo punto visto che ho questo oggettino di servizio nel model devo costruire devo costruire sì devo costruire questa lista di country and num new e cosa faccio? questa lista la riempio con le nazioni e il grado quindi il grado di connettività il numero di vicini di tutte le nazioni che hanno almeno un confinante così adesso in questo caso non è scritto nel testo però gli stati che non erano presenti nel 1900 avranno zero confini e quindi non mi vanno a inquinare questa lista quindi in questo caso farò per tutti gli archi del grafo ma ce l'ho già for country c this.countries per tutte le nazioni che ho già nella lista pronta lista.add new country on number di c virgola il grado di c graph.neighbor list of del grafo graph e il vertice c questa neighbor list of non mi interessa in realtà la lista ma mi interessa solamente la dimensione però ho fatto troppo in fretta perché mi serve in realtà prima questa cosa qua e poi solo se confinante è diverso da zero abbiamo detto questo devo aggiungerla la country c mi faccio dare dal grafo la lista degli adiacenti quindi gli archi direttamente collegati a c e di questa lista mi interessa la dimensione questo è il numero di stati confinanti con c e quindi nella mia lista aggiungo c e il numero di confinanti questa lista l'ho popolata quindi sarà immaginatela come due colonne country numero di confinanti country numero di confinanti country numero di confinanti è ordinata in realtà per ordine alfabetico di country adesso perché così l'ho aggiunta una lista aggiungo in fondo adesso devo riordinarla secondo il numero decrescente di nazioni di confini usando collection collections.sort di lista lista è un oggetto che ha un comparable quindi collection.sort ordina l'elenco e la collection sulla base di quel criterio se volessi un criterio diverso potrei anche qua direttamente creare un nuovo comparator che definisce il criterio arbitrario che ci interessa allora a questo punto tutto questo lavoro il model lo fa ma poi la lista dovrà essere stampata alla fine dal controller quindi questo metodo crea grafo non è tanto void ma dovrà restituire questa lista se tutto va bene quindi una volta che ho creato questa roba quindi una volta che ho creato questa roba ritorno della lista che poi il controller ci penserà mettere in bella ok aggiungiamo ancora una riga al nostro programma di test per verificare che effettivamente questa lista contenga qualcosa di sensato allora salviamola prendiamola da qua dal crea grafo e dopo che ho stampato il grafo proviamo a stampare gli elementi della lista stamperò ho una stringa due punti un numero a capo la stringa è cn.getCountry punto to string dovrebbe già andarmi bene e l'altro è cn.getNumero punto e virgola vediamo cosa salta fuori allora c'è che salta fuori qui Russia 24 Germania 23 Cina 15 Turchia 14 e via via scendere 4 3 2 ci sono alcuni stati che hanno un confine solo Portogallo mi quadra perché lui ci confina solamente con la Spagna San Marino solamente con l'Italia UK confine via terra solamente con l'Irlanda quindi a campione di nuovo sembra che questi dati comunque hanno senso sembrano corretti allora questo è la parte di model e di DAO che ci serve risolvere punto 1 ciò che dobbiamo ancora fare che ci occuperà i primi 5 minuti della prossima lezione è di agganciare questo a controller controller cosa dovrà fare? beh alla fine dovrà chiamare questo metodo dopo aver fatto un paio di controlli che hanno inserito dall'utente sia effettivamente un numero intero quindi sono quelle 4 righe di controlli e poi la chiamata crea grafo che fa tutto il resto del lavoro come abbiamo visto quindi questa chiamata che adesso abbiamo nel main la dobbiamo ovviamente inserire dentro il controller quindi questo esercizio qua al momento lo sospendiamo e lo riprendiamo domani e nella lezione delle 17.30 buon intervallo allora